dedicata ai giovani la copertina di questa sera con due importanti iniziative che si sono svolte nei giorni scorsi a Fano. La prima riguarda i centri estivi sportivi Jump che si sono ritrovati al campo da rugby per la classica festa di metà stagione dove erano presenti circa 500 ragazzi in rappresentanza di tutti i centri fanesi e di quelli di Sant'Angelo in Lizzola, Senigallia e San Costanzo. Una trentina i mini campi allestiti in cui i ragazzi hanno potuto giocare a calcio, volley, basket, rugby e tanti altri sport sotto lo sguardo attento degli oltre 60 educatori di Asi e della cooperativa Polis e dell'assessore allo sport Caterina del Bianco da sempre vicina a questa realtà che ha premiato tutti i ragazzi con delle medaglie. E sempre l'assessore del Bianco insieme al sindaco Massimo Seri ha partecipato giovedì scorso al Lido di Fano all'Happy Meal Sport Camp, il villaggio dello sport di McDonald's rivolto ai bambini e alle loro famiglie per promuovere un corretto stile di vita dato dall'abbinamento tra attività sportiva e sana alimentazione. La città di Fano è stata scelta grazie al sempre più puntuale e professionale lavoro del Comitato Provinciale CSI di Pesaro Urbino che ha portato in Viale Cairoli oltre 500 ragazzi dai 4 ai 14 anni. Madrina della giornata è stata l'olimpionica di ginnastica Carlotta Ferlito. E dalle nuove leve di Asi e CSI passiamo agli sportivi di lungo corso che ieri hanno dato vita alla quarta edizione della Valorosa dei Borghi al Metauro, cicloturistica riservata a bici da corsa costruite prima del 1987 e valida come settima tappa del Giro d'Italia d'epoca, l'unica che si svolge nelle Marche. Ad organizzare la singolare giornata è stato il cicloclub Calcinelli che ha preparato per i 135 partecipanti due percorsi, uno di 50 e uno di 80 chilometri, entrambi dislocati nei borghi della Valle del Metauro. Gli atleti provenienti da tutta la regione hanno attraversato i comuni di Colli al Metauro, Cartoceto, Fossombrone, Acqualagna, Fermignano e Orciano, alcuni addirittura in sella a biciclette degli anni venti, quindi senza cambio e con ruota fissa, caratteristiche che non gli hanno comunque impedito di portare a termine la prova. E ha portato a termine la sua prova in maniera eccellente anche Paolo Apolloni di Serra dei Conti, che si è aggiudicato la terza edizione della Sant'Orso Tennis Cup, superando in una finale quanto mai insolita il fratello gemello Matteo. Sull'evento, che ha visto come testimonia del modello Ivan Cottini, è stato realizzato uno speciale che andrà in onda i prossimi giorni su Fano TV. Cambiamo ora decisamente argomento e apriamo una piccola parentesi dedicata alle bocce, movimento in forte ripresa dalle nostre parti, come dimostra il traguardo raggiunto sabato dalla formazione maschile del Comitato di Pesaro, che nella finale regionale di ritorno di Coppa Italia ha superato Macerata staccando il pass per le finali nazionali di Teramo in programma fine settembre. I ragazzi guidati da Alberto Giacomoni e Giuseppe Filippucci, dopo il 5-3 dell'andata ottenuto sulle corsie della bocciofila Colbordolo, sabato hanno conquistato i 4 set necessari per passare il turno e la loro qualificazione va ad aggiungersi a quelle già conquistate in precedenza dalle formazioni juniores e femminile, unplein che in stagione è riuscito solo alla formazione di Milano e che dimostra l'ottimo lavoro che sta facendo il nuovo consiglio direttivo provinciale, guidato dal fanese Gianluca Simoncini. Chiudiamo la pagina sportiva mostrandovi la foto del podio del 15esimo trofeo Città di Fano di Fossa Olimpica, che si è svolto nel weekend nell'impianto Cittadino di Monteschiantello, con 130 tiratori ai nastri di partenza. A vincere è stato Valerio Agostini del tiro a volo Fano, società che ha conquistato anche la Coppa Marche superando Rio Salso e Fabriano.